Buongiorno a tutti, sono il dottor Frisard Di Flavio, oggi parleremo dell'utilizzo degli ausiliari e della propedeuticità di movimento nella pratica clinica con gli allenatori Bialiner. Cosa significa fondamentalmente questo titolo della presentazione? Diciamo in poche parole la cosa fondamentale riguardo la propedeuticità di movimento è capire se e quali denti bisogna muovere in maniera propedeutica per avere un controllo del spostamento dentale e quindi ottimizzare anche la predicibilità di movimento e di conseguenza l'ottenimento di un allineamento dentale. Vedremo poi l'utilizzo degli ausiliari, possiamo inserire nel contesto degli ausiliari gli attachment, subito dopo parleremo di propedeuticità di movimento dentale, parleremo anche di disegno di arcata e vedremo nel dettaglio cosa si intende per disegno di arcata, parleremo ovviamente dello stripping come procedura per guadagnare spazio e parleremo degli ausiliari a questi già, diciamo, tools di movimento dentale. Quindi tornando al discorso attachment, tutti penso che ormai sappiate cosa sono gli attachment e che cosa fanno fondamentalmente. Diciamo che gli attachment hanno un ruolo fondamentale per assicurare il movimento, lo spostamento dentale e diciamo che questo movimento, quindi lo spostamento dentale è direttamente proporzionale alla stabilità della mascherina e quindi questa stabilità della mascherina viene notevolmente aumentata, potenziata con l'utilizzo degli attachment. Vedremo poi che gli attachment si suddividono in attachment, diciamo, di ancoraggio, che sono gli attachment di default che l'azienda Biosafin vi, diciamo, consegna già nei device come attachment di ancoraggio per il fitting della mascherina e quindi per rendere stabile la mascherina e inoltre abbiamo studiato degli attachment ottimizzati che si usano proprio per ottimizzare il movimento dentale a seconda del tipo di biomeccanica e il tipo di spostamento che noi richiediamo. Quindi ci sono degli attachment che noi utilizziamo particolarmente per vestibolarizzare, ci sono degli attachment che utilizziamo particolari per, quindi ottimizzati per le rotazioni, per le distalizzazioni e per le aperture del morso. Come potete vedere qui, in questa immagine, noi abbiamo tre immagini, partendo dal basso sulla vostra sinistra, avete un attachment template settoriale, ok? Quindi avete il modello poi nella foto centrale, il modello prototipato con l'attachment template in situ e poi abbiamo, vedete, il posizionamento degli attachment sul, direttamente nella bocca del paziente. Questa è un'immagine di attachment per vestibolo versione e per vestibolarizzare fondamentalmente il gruppo anteriore. Vedete che abbiamo degli attachment rettangolari sui premolari, quindi sul 14, sul 15 e sul 24. Quelli sono gli attachment di default che vi spiegavo, sono degli attachment che già sono inseriti senza nessuna richiesta di default appunto, vengono inseriti nel vostro caso Bialiner. Gli attachment ottimizzati invece sono degli attachment che richiede il clinico o richiede il clinico oppure vi vengono forniti direttamente dall'azienda Biosafin previo studio del caso da parte nostra e che quindi qui in questo caso, vedete, sono stati posizionati degli attachment a pallina palatali, così da andare ad implementare il movimento di vestibolarizzazione degli incisivi. Abbiamo poi degli attachment che vengono utilizzati per le rotazioni, come nel caso in oggetto, in riferimento al dente 22 che si presentava disto ruotato, vedete, e quindi noi dovevamo deruotare questo elemento dentale e di conseguenza abbiamo applicato degli attachment che cercano di dare quello che viene chiamato nel gergo ortodontico la coppia di forza. Come potete vedere questo dente deve subire una rotazione, una mesiorotazione, quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un attachment posizionato sul versante vestibolo mesiale e un attachment opposto posizionato nel versante disto palatale. In questo modo la mascherina che cosa darà come informazione? Darà un'informazione di coppia di forze, quindi un movimento da vestibolare verso palatale della porzione mesiale del dente e un vettore disto vestibolare nel versante linguale, sul bottone, sull'attachment che vedete distale nel versante palatale, andando così a potenziare il movimento di derotazione. Abbiamo anche la distalizzazione, vedete questo è un caso nel secondo quadrante abbiamo una genesia, questo era un caso che si presentava un caso preimplantare dove avendo una genesia di un E e quindi di un secondo molare da latte, scusate una genesia del secondo premolare, quindi del 25, noi avevamo la persistenza inarcata di un E, di un secondo molare da latte. Come tutti sapete il secondo molare da latte ha un diametro mesio distale più grande rispetto a un premolare permanente, di conseguenza avevamo uno spazio più importante. Per estetica ci chiede l'implantologo di ridurre quello spazio e quindi noi andiamo a progettare una distalizzazione del 24, una distalizzazione del 23 così da ridurre quello spazio agenesico e andarlo a rendere diciamo simile al dente controlaterale e quindi al 15 così da dare un'armonia e una forma ideale a questo elemento. Gli attaccamenti per distalizzazione sono degli attaccamenti fondamentalmente verticali, ovviamente, hanno una zona di bisellatura orientata mesialmente, quindi opposta alla direzione di spostamento e anche questi attaccamenti vengono forniti dall'azienda Biosafin, previo studio nostro di gestione degli attaccamenti e scelta dell'attaccamenti ideale in base al movimento. Quindi questi sono degli attaccamenti che si è visto che danno diciamo quel quid in più allo spostamento dentale e che quindi danno performance alle nostre terapie. Quindi questi sono attaccamenti che vengono forniti direttamente dall'azienda Biosafin e che come per gli attaccamenti tradizionali avrete un attachment template e non dovrete fare altro che posizionarli in bocca. Qui adesso parliamo invece di bite ramp per apertura morso. Che cosa sono i bite ramp? I bite ramp sono diciamo degli attachment che non vengono nella maniera più assoluta montati in bocca. Quindi qui avrete anche delle informazioni riguardo a questi attachment o meglio l'attachment in questo caso è solamente un rialzo che si trova nella zona del cingolo dei quattro incisivi superiori e che quindi che cosa fa? Va a creare una diciamo un'intrusione, un vettore intrusivo dei quattro incisivi superiori e dei quattro incisivi inferiori andando così a creare un'apertura del morso per intrusione anteriore e che di conseguenza vi permetterà di avere un'apertura del morso e quindi una gestione del deep bite. Voi diciamo per evitare che ci sia confusione tra attachment da posizionare sui denti e bite ramp che invece sono degli attachment che voi noterete solo sulla mascherina diciamo che per chiarire diciamo questo piccolo momento di dubbio che molti colleghi ci riferivano abbiamo optato per non avere l'attachment template che riporta i bite ramp quindi mi spiego meglio nel momento in cui voi dovrete aprire un morso e avete e vi chiedete quindi bite ramp per l'apertura del morso per evitare che il collega monti e quindi diciamo confonda ecco l'attachment template che riporta i bite ramp, confonda questo attachment template come un attachment template appunto dove deve andare a inserire i bite ramp negli elementi dentali voi avrete i bite ramp su tutte le mascherine ma non avrete l'attachment template che riporta i bite ramp. In questa maniera voi non andrete in confusione e di conseguenza noterete solamente che le mascherine con il bite ramp servono come appoggio nel momento in cui il paziente indossa la mascherina. I bite ramp sono quindi delle rampe posizionate sul cingolo dei quattro incisivi superiori una volta indossate voi vedrete che il paziente quando va a chiudere tocca principalmente la zona anteriore. Toccando la zona anteriore ci sarà un vettore intrusivo ok e automaticamente una facilitazione all'estrusione dei settori posteriori. Ovviamente spiegare queste cose con un webinar non è così semplice ma questo è il periodo purtroppo drammatico che non ci permette di avere un contatto ma spero che questa situazione si possa risolvere così da farvi vedere in maniera più semplice di cosa si tratta. Comunque nessuna preoccupazione perché ripeto quando avrete da gestire un morso profondo vedrete che di default arriveranno delle mascherine con dei bite ramp. Questi bite ramp ripeto sono delle forme geometriche molto simili agli attachment ma non vanno nella maniera più assoluta incollati sui denti. Di conseguenza non avrete una mascherina di attachment template che riporta i bite ramp. Bensì questi bite ramp saranno presenti solamente sulla prima mascherina la quale non deve mai essere utilizzata come attachment template. Ed eccoci al discorso che vi anticipavo prima. Propedeuticità dentale. Che cosa significa? Significa che nel momento in cui noi abbiamo un disallineamento dobbiamo nella maniera più assoluta muovere prima i denti più palatali o più linguali poiché vestibolarizzando si guadagnano millimetri di spazio, espansione d'arcata ed estetica del sorriso. Come potete vedere in questa immagine i denti più linguali che abbiamo e più palatali che abbiamo sono i canini superiori e di conseguenza i canini inferiori. Che cosa succede? Questa è l'immagine di questa paziente. Guardate la posizione del 13 prima e dopo. Prima e dopo. Guardate già come abbiamo gestendo la propiedicità di movimento come abbiamo dato ampiezza d'arcata e abbiamo già migliorato l'estetica del sorriso andando anche quindi ad allineare e a migliorare l'allineamento di questa zona anteriore. Stesso discorso orientamento vestibolo palatale degli incisivi. In questo caso che cosa faremo? Andremo a gestire la posizione dell'11 troppo palatale, del 13 troppo palatale e quindi noi andremo a dare una vestibolo versione, una vestibolarizzazione del gruppo e quindi propiedeuticità di movimento, quindi i denti che si muovono in maniera propiedeutica in questo caso specifico sono l'11 e il 13. Stesso discorso, vedete orientamento degli incisivi. Questo sembra un affollamento terribile che mette quasi paura, ma noi andiamo sempre a gestire in maniera propiedeutica le nostre arcate. Non dobbiamo di certo partire dalla posizione del 21, quindi noi andiamo a gestire la zona più, diciamo gli elementi più linguali, quindi gli elementi più linguali sono sicuramente più palatali, sono sicuramente l'11 e quindi il 13, il 23, quindi vestibolarizzazione, espansione d'arcata, dopodiché andremo ovviamente a palatalizzare il nostro 21. E vedete come anche degli affollamenti che sembrano terribili vengono gestiti in maniera ottimale con gli allineatori Bialiner. Un altro argomento molto importante è il disegno di arcata. Vedete quante cose vengono a nostro favore per raggiungere il nostro obiettivo e quindi l'allineamento? Le arcate disallineate si presentano spesso contratte, in senso trasverso ovviamente, con forma triangolare o quadrata. Ripristinare un arch form, quindi un disegno di arcata ideale, deve essere uno dei nostri main goal, quindi i nostri focus principali. Stesso discorso, in basso a sinistra cosa abbiamo? Abbiamo un affollamento, ma abbiamo anche un'arcata triangolare. Nel momento in cui noi andiamo ad affrontare il nostro disallineamento, dobbiamo affrontare tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato, compreso il disegno di arcata. Altro esempio di arcata quadrata, che andiamo a trasformare in un arch form, quindi in un'arcata a ferro di cavallo, tondeggiante, che quindi aumenta diametro d'arcata, aumentano millimetri e andiamo a guadagnare spazio per allineare le nostre arcate. Ovviamente, arrivati a questo punto, non ci rimane che parlare dello stripping. Lo stripping, che cosa è? Lo stripping, diciamo, è una tecnica che crea spazio per sottrazione. Si usa quindi, si usa quando? Quando si usa? Si usa se non è possibile vestibolarizzare, se non è possibile espandere e se non è possibile correggere la forma d'arcata. Ecco perché abbiamo affrontato questi argomenti prima dello stripping. Ovviamente, lo stripping in un caso come questo è fondamentale. Perché? Perché vedete, sulla vostra sinistra, il caso pre, noi abbiamo delle arcate abbastanza ampie, abbiamo delle arcate dove non possiamo gestire la linguoversione e quindi il torque negativo dei canini. Possiamo però vestibolarizzare il 32 e il 42, ma non possiamo fare grosse espansioni perché abbiamo una normoclusione, abbiamo un diametro trasversale ideale, quindi è qui che interviene lo stripping per risolvere l'affollamento e per dare una, diciamo, un'estetica a questo sorriso. Ovviamente siamo arrivati ad un momento in cui bisogna parlare degli ausiliari. Che cosa sono gli ausiliari? Gli ausiliari sono delle cose ausiliari appunto in più rispetto a tutte quelle che abbiamo affrontato e sono dei potenziatori di movimento. Avrete visto sicuramente non solo me altri colleghi che utilizzano dei potenziatori di movimento e questo perché uno per cercare di ridurre il numero di mascherine per ottenere un determinato movimento, che ha come vantaggio sicuramente la riduzione della durata della terapia, che è fondamentale nei casi in cui le mascherine diventano un numero eccessivo poiché il paziente tende, si è visto che tende dopo una quantità importante di mascherine a perdere, diciamo, la motivazione a, le motivazioni a, diciamo, collaborare e quindi viene a mancare la compliance. Quindi che cosa sono? Sono dei potenziatori di movimento, vedete qui a sinistra per esempio dovevamo fare, dovevamo ottenere un'intrusione di un primo quadrante, quindi abbiamo inserito delle minimiti di ancoraggio, sulla destra invece vedete degli elastici di classe 2, questo perché? Perché le risoluzioni di classe dentale sono complicate e lunghe e di conseguenza abbiamo assolutamente bisogno della collaborazione del paziente che se viene a mancare viene a mancare anche un risultato predicibile. Vi faccio vedere anche questo device che diciamo è un device che noi ortoontisti utilizziamo moltissimo negli ultimi anni, un caso di classe 2 a destra con, diciamo, inclusione, semi-inclusione dell'elemento 13. In questo caso la distalizzazione di questo gruppo sarebbe, diciamo, sarebbe risultata in una terapia con allineatori B-Liner molto molto lunga perché dovevamo distalizzare settorialmente prima il sesto, poi il quinto, poi il quarto e quindi che cosa facciamo noi in questo caso? Utilizziamo dei distalizzatori intraorali, questo si chiama carrier motion, è un carrier motion estetico, vedete ha uno stantuffo in questo materiale plastico molto resistente, con uno snodo, quindi un tubo che viene incollato sul sesto, si applicano degli elastici di classe 2 e quindi che cosa si fa? Si va a fare una distalizzazione in masse del gruppo dentale e vedete questo è un risultato già a due mesi dall'utilizzo degli elastici con il carrier e quindi abbiamo velocizzato la terapia di una quantità di mesi importantissimo. Questo è un caso che se gestito solo con gli allineatori B-Liner forse ci mettevamo un 15 mesi, con l'utilizzo del carrier motion non riusciamo a distalizzare questa zona già in 3 mesi, 3-4 mesi, ovviamente dipende sempre dalla collaborazione del paziente e fatto questo, vedete il canino comincia a scendere da solo perché si toglie il conflitto radicolare, si guadagna spazio, a quel punto noi andiamo a finalizzare questo caso totalmente in maniera estetica e invisibile con gli allineatori B-Liner. Parlando sempre di bite ramp, abbiamo visto i bite ramp del settore anteriore per l'apertura del morso, questi sono invece i bite ramp posteriori per i morsi aperti. Questi bite ramp, stesso discorso dei bite ramp per il settore anteriore, non vengono montati sul dente, sui denti non si colla nulla, quindi i bite ramp voi li avrete solamente dalla prima mascherina, non avrete un attachment template con i bite ramp così da non confondervi, sono dei piani di rialzo dei settori posteriori e servono per aumentare in questo caso invece il vettore intrusivo posteriore così da ottenere una anterotazione mandibolare e una chiusura del morso. Questo, questi sono i progress di un caso che sto gestendo con Biosaffin, quindi con Bialiner, vedete già i progress, guardate quanto l'overjet si sia ridotto, risultato eccellente. In più abbiamo i bottoni, sempre ausiliari, sono dei bottoni che io in questo caso faccio con il composito, vedete a sinistra avete degli anellini blu, quelli sono degli elastici separatori, si posizionano questi elastici separatori sulla superficie del dente, si va a riempire con il composito, una volta tolto l'elastichino rimane un bottoncino, questo bottoncino viene utilizzato in questo caso per fare un'estrusione del 12 e il 22 per livellare lo zenith gengivali. Anche qui non so se riuscite a capirlo dall'immagine, sarebbe più bello stare diciamo in una sede di un corso faccia a faccia così da spiegarvi come vengono posizionati, però farò degli altri webinar dove farò vedere proprio dei video pratici dove monto tutti questi vari bottoni, quindi qui fondamentalmente vi spiego velocemente come viene realizzato questo bottone per estrusione, quindi il bottone vestibolare estetico con il composito, lì ugualmente ovviamente potete montare dei bottoni classici e a quel punto si mette l'elastico che va da palatale a vestibolare, passa sotto alla mascherina e così abbiamo un vettore estrusivo corporeo. In questa ultima slide vi metto anche un altro diciamo piccolo trucchetto che noi ortodontisti utilizziamo anche in ortodonzia tradizionale per centrare le mediane, questa è una paziente che ha affrontato una terapia con Bialiner e io ho bypassato la centratura delle mediane seguendo una tecnica step by step, quindi riducendo il numero di mascherine e riducendo quindi anche la durata della terapia andando una volta allineata l'arcata a montare un elastico che si chiama incrociato, che in questo caso viene solamente sgusciata la mascherina finale, in questo caso la centratura della mediana era uno shifting della mediana inferiore verso sinistra, della superiore verso destra e quindi l'elastico va dal primo quadrante al terzo quadrante. Il bottone viene posizionato sul colletto del 13 e sul colletto del 33, la mascherina ovviamente viene sgusciata con un semplice gommino e il paziente indossa la mascherina e indossa l'elastico. Vedete come già avendo una terapia con allineatori abbiamo uno svincolo della massima intercuspidazione come mettendo gli elastici già il paziente tende ad avere una centratura della mediana. Non sto qui adesso a spiegarvi se è una deviazione della mediana funzionale oppure prettamente dentale, comunque il messaggio che vi voglio trasmettere è che molte volte se avete delle linee mediane decentrate, invece di fare stripping e muovere settorialmente dente per dente, potete anche gestire la centratura delle linee mediane con l'elastico incrociato. Io con questo ho terminato, vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi saluto. Grazie.